Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che tra l'altro oggi è una giornata particolare perché è il mio compleanno e ovviamente mi sono regolato una modifica al GTE una delle cose che mi avete più chiesto era che configurazioni di scarico avevo attualmente nei video che avete visto avevo un terminale artigianale un finale artigianale diretto completamente diretto con downpipe e centrale silenziati originali oggi andremo a installare un downpipe diretto senza catalizzatore e un centrale con due silenziatori tutto in inox quindi dovrebbe cambiare parecchio e poi nel prossimo video ci sarà anche un'altra sorpresa ma adesso non voglio farvi spoiler adesso vi faccio vedere sia la macchina sotto che il nuovo terminale e vi faccio sentire anche il suono prima e dopo qui appunto come vedete ho il finale diretto che poi si collega al centrale originale e al downpipe originale downpipe originale e centrale originale e ora andremo a sostituire centrale downpipe questo appunto è il downpipe scatalizzato e questo invece è il centrale con due silenziatori che uno volendo si può togliere questo è il downpipe originale e adesso vi faccio vedere il centrale questo è il centrale originale a differenza di quelli che adesso andremo a montare il meccanico è un buon meccanico si usa il martello altrimenti non è un buon meccanico martello adesso ve lo faccio sentire un attimo in strada senza esagerare ma almeno per farvi capire la differenza perché da fermo non cambia tanto quando apri però che vai ci sente parecchio non era granché il pezzo però comunque ve l'ho fatto sentire in movimento contate che dobbiamo ancora mappare quindi ci sarà una bella differenza quindi mi raccomando attivate la campanellina che a breve uscirà il video con la mappa che ci sarà anche una grossa sorpresa ma grossa e seguitemi anche su Instagram perché lì spoilerò sempre tutto prima ci sentiamo ci vediamo presto ciao ragazzi